Altre disposizioni che sono contenute nel decreto legge riguardano invece i flussi di ingresso, ma da questo punto di vista in realtà, i flussi di ingresso in territorio italiano per motivi di lavoro, da questo punto di vista in realtà non ci sono grandi elementi su cui riflettere, ci sono alcuni accorgimenti che vengono adottati per rendere più agile il ricorso ai decreti con cui si fissano le quote di ingresso in territorio italiano, viene previsto un decreto flussi triennale che va dal 2023 al 2025 per decidere le quote di ingresso nel corso del triennio, viene previsto che comunque al di là di questo decreto flussi ne potranno essere adottati altri in maniera tale da poter funzionalizzare meglio gli ingressi per motivi di lavoro alle esigenze del mercato italiano nei vari settori produttivi e in questa operazione di semplificazione, ottimizzazione del percorso vengono effettuate alcune modifiche normative che hanno delle implicazioni che dobbiamo tenere in considerazione. In primo luogo viene introdotto un nuovo articolo, l'articolo 24 bis nel testo unico in materia di immigrazione che interviene su un profilo particolare, cioè quando viene fatta la richiesta di assunzione di un cittadino straniero, ovviamente il datore di lavoro che intende assumere il cittadino straniero deve rispondere a tutta una serie di requisiti, non devono sussistere dei motivi ostativi, non deve avere determinate condanne eccetera eccetera e oltre a tutto questo deve essere un soggetto che ha la congruità per assumere il cittadino straniero, cioè ci deve essere una congruità rispetto alle risorse che il datore di lavoro ha in rapporto alle assunzioni che effettua e ovviamente il contratto di lavoro che viene offerto al cittadino straniero deve rispondere a tutte le prescrizioni previste dal contratto collettivo di lavoro in quel settore. Ora i controlli sulla congruità delle richieste del datore di lavoro e sul fatto che siano osservate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali vengono spostate dalla direzione provinciale del lavoro, a cui prima erano attribuiti come controlli, vengono spostati al settore privato, sostanzialmente ai consulenti del lavoro. Quindi su questi profili non ci sarà più un controllo tra virgolette pubblico operato dalla direzione provinciale del lavoro ma saranno controlli effettuati dai consulenti del lavoro o figure professionali assimilabili che poi rilasceranno un'asseverazione che il datore di lavoro produrrà nella procedura di assunzione del lavoratore straniero. Un altro profilo di modifica riguarda il parere che il questore e quindi sostanzialmente l'assenso che il questore deve dare nell'ambito della procedura di assunzione del lavoratore straniero. La questura nella normativa previgente che cosa faceva? Effettuava tutti i controlli sulla figura del lavoratore, sulla figura del datore di lavoro poi a un certo punto esteneva il parere positivo affinché la procedura potesse proseguire se non sussistevano elementi ostativi. Ora, sia per quanto riguarda il lavoro stagionale che per quanto riguarda il lavoro non stagionale con il decreto legge il parere del questore viene di fatto sostituito come una richiesta di informazioni che viene rivolta alla questura per apprendere se ci sono motivi ostativi a carico del datore di lavoro o del lavoratore. Ora, questo passaggio da parere ad una richiesta di informazioni è un passaggio importante perché che cosa consente di fare? Consente di oltrepassare l'obbligatorietà del parere del questore. Cioè con le nuove disposizioni viene chiesto al questore, agli uffici della questura, informazioni riguardo al fatto se sussistano o meno delle ragioni o degli elementi ostativi che possono bloccare l'assunzione del lavoratore straniero ma se entro 60 giorni non provengono comunicazioni da parte della questura la procedura prosegue e comunque il procedimento va a conclusione anche se dalla questura non sono pervenute indicazioni cosa che prima non era possibile fare perché comunque da parte della questura c'era la necessità di acquisire il parere. Il problema però è che se poi questi elementi ostativi che possono riguardare che ne so, appunto dicevo, dei profili ostativi a carico del datore di lavoro oppure viene fuori che l'asseverazione rilasciata dal consulente del lavoro non va bene perché in realtà quel datore di lavoro non ha la coniguità economica per procedere all'assunzione cioè se questi profili ostativi vengono fuori successivamente quindi dopo che il lavoratore è entrato in territorio italiano, è stato assunto e quant'altro il fatto che emergano successivamente questi profili ostativi comporta la revoca del nulla osta che è stato già dato, del visto che è stato eventualmente già dato e del permesso di soggiorno che è stato eventualmente già dato e questo senza fare nessuna distinzione riguardo alle responsabilità in rapporto ai motivi ostativi cioè se a un certo punto il datore di lavoro assume un soggetto senza averne la capacità economica prevista dalla legge oppure se viene fuori che il datore di lavoro aveva delle condanne ostative quindi non poteva assumere quel lavoratore il lavoratore cosa c'è? cioè il lavoratore una volta che è stato in territorio italiano ha preso il permesso di soggiorno caso mai adotti delle sanzioni rispetto al datore di lavoro ma non puoi prevedere una reazione che cancella il percorso del lavoratore in territorio italiano fino al punto di dire guarda, ascolta abbiamo scoperto che il tuo datore di lavoro ha una condanna oppure non aveva sufficienti risorse economiche ci dispiace ma te ne torni al tuo paese mi sembra una cosa veramente incredibile però ad oggi è prevista in questa forma ci sono alcuni profili positivi all'interno del decreto legge abbastanza pochi però alcuni ce ne sono secondo me sono riassumibili in questi elementi intanto viene previsto che una volta che il lavoratore il lavoratore straniero entra in territorio italiano può iniziare subito l'attività lavorativa anche se ancora non è stato sottoscritto il contratto di soggiorno questo presenta anche tutta una serie di profili di rischio però consente immediatamente al lavoratore di accedere all'attività che poi gli consente di avere le risorse per vivere il permesso di soggiorno ottenuto per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote di ingresso che vengono decise annualmente o triannualmente insomma che vengono periodicamente decise nella disciplina previgente chi si trovava in territorio italiano con un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione poteva convertire il permesso di soggiorno ma nell'ambito delle quote di ingresso per motivi di lavoro che venivano decise con i decreti fursi e questo rendeva tutto estremamente difficile con la modifica introdotta dal decreto legge queste conversioni potranno venire al di fuori delle quote di ingresso e questo effettivamente è un aspetto positivo perché permetterà a tanti cittadini e stranieri titolari di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione o formazione di poter convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro un altro profilo positivo riguarda la durata di alcune tipologie di permesso di soggiorno in particolare il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato per lavoro autonomo e per motivi familiari tutti questi permessi di soggiorno tutte e tre le tipologie di permesso di soggiorno prevedono una durata massima del permesso di soggiorno di due anni nella disciplina previgente con la modifica introdotta dal decreto legge permane la durata dei due anni per il primo rilascio cioè quando tu arrivi in territorio italiano chiedi il permesso di soggiorno e ti viene rilasciato ti può essere rilasciato per un massimo per una durata massima di due anni poi però al rinnovo questa durata può essere estesa e arrivare al massimo di tre anni quindi primo rilascio durata di due anni e rinnovo invece per tre anni quindi rinnovo diventa triennale e questo è importante intanto perché non costringe il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato indeterminato autonomo o familiare o per motivi familiari a dover con una certa frequenza provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno perché così si allungano un po' i tempi del rinnovo ma tra l'altro c'è un altro effetto positivo e cioè che sommando il primo rilascio che è della durata di due anni con il primo rinnovo che è della durata di tre anni arriviamo a una durata del soggiorno di cinque anni e quindi già dopo il primo rinnovo avresti la possibilità di accedere al permesso di soggiorno per lungo soggiornanti che prevede appunto un soggiorno almeno di cinque anni e questa è un'utilità importante e questa è un'utilità importante e questa è un'utilità importante